Nice, casta sacerdotale e casta aristocratica Per l'illuminismo settecentesco, la contrapposizione era fra il prete e il filosofo. In Nice, il primo termine della contrapposizione rimane sempre il prete, ma il secondo diventa chi impersona lo spirito aristocratico. Comunque, molti dei temi illuministi sono qui presenti, a partire dal giudizio sugli ebrei e sui loro discepoli, i cristiani, da cui è partita la rivolta degli schiavi nella morale. Da Nice, genealogia della morale Si sarà già indovinato con quanta facilità la maniera sacerdotale di valutazione può distaccarsi da quella cavalleria escoristocratica e svilupparsi ulteriormente fino a diventarne l'antitesi, alla quale cosa verrà dato un particolare impulso ogni qualvolta la casta sacerdotale e quella guerriera entreranno per gelosia in contrasto tra loro e non vorranno reciprocamente accordarsi intorno all'estimazione. I giudizi di valore cavalleresco-aristocratici presuppongono una poderosa costituzione fisica, una salute fiorente, ricca, spomeggiante, al punto da traboccare, e con essa quel che ne condiziona la conservazione, cioè guerra, avventura, caccia, danza, giostre, nonché in generale tutto quanto implica un agire forte, libero e giocoso. La maniera sacerdotalmente aristocratica, di valutazione, l'abbiamo già visto, ha presupposti diversi. Quando c'è di mezzo la guerra, le cose si mettono piuttosto male per essa. I sacerdoti, come noto, sono i nemici più malvagi, e perché mai? Perché sono i più impotenti. È a causa dell'impotenza che l'odio cresce in loro, fino ad assumere proporzioni mostruose e sinistre, le più intellettuali e benefiche. I massimi odiatori nella storia del mondo sono sempre stati preti, e sono stati pure gli odiatori più geniali. In confronto alla genialità della vendetta sacerdotale, ogni altra genialità può astento essere presa in considerazione. La storia umana sarebbe una cosa veramente troppo stupida, senza lo spirito che da parte degli impotenti è venuto in essa. Prendiamo subito il più grosso esempio. Tutto quanto è stato fatto sulla terra contro i nobili, i potenti, i signori, i depositari del potere, non merita una parola in confronto a ciò che contro costoro hanno fatto gli ebrei. Gli ebrei, quel popolo sacerdotale, che ha saputo infine prendersi soddisfazione dei propri nemici e dominatori, unicamente attraverso una radicale trasvalutazione dei loro valori, dunque attraverso un atto improntato alla più spirituale vendetta. Questo soltanto si conveniva appunto a un popolo sacerdotale, a un popolo della più compressa avidità di vendetta sacerdotale. Sono stati gli ebrei ad avere usato, con una terrificante conseguenzialità, stringendolo ben saldo con i denti dell'odio più avvissale, l'odio dell'impotenza, il rovesciamento dell'aristocrazia in un'equazione di valore buono uguale nobile, uguale potente, uguale bello, uguale felice, uguale caro agli dèi, ovvero sia i miserabili soltanto sono i buoni, solo i poveri, gli impotenti, gli umili sono i buoni, i sofferenti, gli indigenti, gli infermi, i deformi sono anche gli unici devoti, gli unici uomini pi per i quali soli esiste una vera attitudine, mentre invece voi, voi nobili e potenti, siete per l'eternità i valvagi, i crudeli, i lascivi, gli insaziati, gli empi e sarete anche eternamente gli sciagurati, i maledetti e i dannati. Sappiamo chi ha raccolto l'eredità di questa trasvalutazione giudaica. Riguardo alla mostruosa e smisolatamente funessa iniziativa che gli ebrei hanno assunto con questa dichiarazione di guerra, la più radicale di tutte, ricordo quanto ebbe a scrivere ad altro proposito, in al di là del bene e del male, che ha inizio cioè con gli ebrei la rivolta degli schiavi della morale, quella rivolta che ha alle sue spalle una storia bimillenaria e che oggi non abbiamo più sotto gli occhi per il semplice fatto che è stata vittoriosa. Grande Antologia Filosofica Pag. 341-342